Guarda, io direi una cosa, ti riprendo io e ti quello che spensi. Ah, ok. Allora mi metto di qua. Stavo riflettendo. Perché qui era tutto grigio, no? Le saracinesche abbassate, buio, un po' di sborco per terra, abbandono e detrato. Abbiamo riaperto, luce dentro, arte. Abbiamo trovato un buco e ci abbiamo messo l'arte dentro e l'arte esce fuori e crea vita, luce, ecco qua, suoni, musica. Andiamo, andiamo luce. Oggi c'è luce, non mi stai riprendendo. Ai, 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 ai. Questa è vita. Se fanno tra poco arriveranno anche i bambini, eh? Certo. Vieni, vieni, facciamo vedere. E' uno degli artisti che sta esponendo, eh? Buonasera. Il fiore degli artisti di Viterbo abbiamo. Perché ci sono artisti che vanno, artisti che vengono, artisti che si fermano, professori che si fermano, si apre una discussione, si parla, si collano. E' bellissimo, l'artista che fa da modella. Perughe sono arte. Perughe sono arte. Giusto? Come sarebbe un polvo, senso? No, perughe sono storia. Facciamo vedere l'anteprima. E crede che succederà tra poco. Adesso interrompiamo, che sennò il video diventa tra poco e lo mandiamo al nostro caro amico, il mecenate del ventunesimo secolo, Giulio D'Ararca, allo Sanchez. E' buono un'interrompiamo! Grazie per la visione! Grazie a tutti!